Sui banchi con quaderno, matita, tablet e robot. Un accordo di rete tra scuola primaria e università dà vita al progetto denominato Cogito, connubio tra il pensiero computazionale e quello psicopedagogico. Il nuovo principio di apprendimento permette di amplificare le capacità dei bimbi ed è operativo nell'aula Lab to Lib della Scuola Primaria Statale Carducci del Terzo Circolo di Cesena. Il taglio del nastro è finalizzato ad inaugurare due strutture, una fisica nella quale ci troviamo a quest'aula che noi abbiamo chiamato Little Tartal Lab con riferimento alla tartaruga che negli anni passati si usava come simbolo della programmazione in logo e un'altra struttura che invece non ha spazio fisico, non ha un'aula fisica che è il percorso computazionale attraverso la robotica che si svolge nel plesso di Sayano. Qui invece in quest'aula si svolge un percorso legato al coding ministeriale e all'uso di un sistema di programmazione particolare Scratch messo in piedi da Mitch Resnick del MIT di Boston che sta consentendo ai bambini di sviluppare la loro creatività e non solo perché pensiero computazionale vuol dire anche affiancare alle tradizionali abilità leggere, scrivere, far di conto anche un'altra, quella del computare che rende più umani e sviluppa meglio la creatività dei bambini. Quindi alunni 3.0 saranno gli uomini del domani? I nostri alunni noi vogliamo che abbiano queste caratteristiche, che si sappiano orientare in un ambiente che via via si complica sempre di più che è sempre più sviluppato, sempre più articolato e loro devono avere gli elementi per potersi orientare e avere successo nel loro futuro.